Eccomi qua, pronto per gli Oscar di stanotte che premiano il meglio del meglio del 2016. In questi video vi parlo delle categorie tecniche, poi passerò alle categorie importanti e vi svelerò i candidati e chi potrebbe vincere, chi dovrebbe vincere, i miei favoriti. Abbiamo iniziato con le categorie musicali, ora passiamo a quelle audio, ossia mixaggio sonoro e montaggio sonoro e tre candidati coincidono in entrambe le categorie, ossia il fantascientifico Arrival di Denis Villeneuve, il biopic bellico di Mel Gibson, Hacks Ridge e il musical di Damien Chazelle, La La Land, tutti e tre candidati anche come miglior film. Per il mixaggio sonoro sono candidati anche Rogue One, Star Wars Story, il primo spin-off di Guerre Stellari e Thirteen Hours, The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay. Mentre per il montaggio sonoro troviamo anche Deepwater Horizon di Peter Berg e Sally di Clint Eastwood, unica candidatura per questo straordinario e molto sottovalutato film biografico con Tom Hanks che io ho amato moltissimo. Ciò nonostante, per il montaggio sonoro sento che sarà una grande gara tra Arrival e Hacks Ridge che ha vinto il premio del sindacato del montaggio sonoro in ben due categorie per quanto riguarda i dialoghi e per quanto riguarda il montaggio dei suoni, nuove creazioni insomma. Per il mixaggio sonoro invece anche lì c'è una bella guerra perché anche lì Arrival aveva vinto il BAFTA, ossia gli Oscar inglesi nella categoria mixaggio e montaggio sonoro, ma l'altro grande favorito è ovviamente il musical La La Land. Di solito i musical hanno vita facile nella categoria mixaggio sonoro, basta pensare ai casi recenti tipo di Les Miserables oppure Dreamgirls, Chicago e anche Ray e tantissimi altri insomma e quindi penso che La La Land possa vincere per il mixaggio sonoro. Poi le sorprese potrebbero capitare, chissà che non vinca anche per il montaggio sonoro La 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 Land, però staremo a vedere voi che ne pensate e adesso vediamo, vi svelerò altri video. Buona visione eh! Ciao a tutti!